La prossima settimana, dal lunedì a sabato, parte in tutte le farmacie comunali gestite da ASET la settimana della pressione arteriosa. Sarà quindi possibile misurarsi gratuitamente la pressione arteriosa negli orari e nei giorni di apertura delle farmacie. Questa è la farmacia di Sant'Orso, però questa iniziativa riguarderà tutte le farmacie comunali dell'ASET, quindi partiamo da Cantiano fino a Marotta, fino al Fano Center, Gimarra, Piagge e anche quella della stazione, quindi le abbiamo tutte. Questa è un po' la visione che noi abbiamo del sistema delle farmacie comunali, quindi di dare dei servizi. Ripeteremo questa esperienza relativa all'ipertensione anche tra qualche mese, quindi probabilmente a maggio, come inizieremo anche altre attività di monitoraggio che via via illustreremo. L'ipertensione arteriosa ancora oggi è una delle maggiori responsabili di accidenti cardiovascolari, ictus ed infarto. Una malattia subdola è pericolosa perché non dà sintomi, non ci si accorge di soffrirne se non si misura la pressione e spesso si scopre di soffrire di pressione alta casualmente. Tenerla sotto controllo costantemente è l'unica arma a disposizione per poter intervenire in maniera tempestiva. Il nostro personale, formato, qualificato, perché parliamo di veri e propri professionisti della salute, sono in grado di fornire i consigli e il monitoraggio di alcuni parametri fondamentali. Ma qui la logica è questa, le farmacie devono essere viste come punto di riferimento dei cittadini per fare prevenzione, per avere consapevolezza e conoscenza. Quale occasione migliore quindi della settimana dell'ipertensione presso le farmacie comunali per fare un check pressorio con il supporto del personale specializzato presente in farmacia? In sinergia con il medico e con gli ambulatori, possono misurare da loro ma anche da noi in orario dalle 8 alle 20. Abbiamo strumenti in tutte le sette farmacie per il monitoraggio della pressione. Chiaramente spesso l'ipertensione è una patologia silenziosa e quindi bisogna valutare i rischi potenziali che ha. Grazie. 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 Grazie.